visto eccolo, eccolo vado a pigliare le ste bacche, vado a pigliare le ste bacche io e ma sapete dove stanno? si, non so dove stanno, non vi preoccupate a parte che c'è la ki-pac, c'è la teleline siamo a gi- amici dovete sapere che forte è diventato Jurassic Park amici forte è diventato Jurassic Park, ho deciso no, l'ha superato l'ha superato, è stato un po' forte ecco è stato meglio di Jurassic Park, sto qua allora vediamo cosa succede a cromo ci sta del legno a candese guarda tutto qualcosa, ti do anche le granate vabbè eccolo, eccolo robò robò ah via te ste granate ma poi diventa tutta con la faccia fucciosa diventa eh si guardate come diventa quelle bacche guardate con le bacche guardate vai 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 faccelo, faccelo vedere faccelo vedere scuratela vai guardate come diventa tutto verde guarda come si sta con la faccia è venuto io guarda qua una cosa che ha sputtato che cosa ci hai dato? cosa ci hai dato? che ci hai dato? un bel di nebbia io già lo tengo aspetta gli dono io dieci di pietra gli dono io dieci di pietra no aspetta ecco vai vai non un po' mangia mangia e ci sta una pietra candela ci sta un altro beh meglio di Jurassic Park è questo l'ha superato proprio grazie a tutti grazie a tutti